Scusami se ho dubitato di te, Hogan, sono stato un pazzo. Sì, certo, un pazzo. Dovrei ammazzarti per quello che hai fatto, ma sei un pazzo. Allora, filosofo, ti può bastare la parte di Reed per condurci al Messico ? No. Quanto vuoi ? Metà dell'oro. Sarà tuo quando ci avrai portato al confine. Caricate le cassette su due cavalli. Un momento. Cosa c'è ancora ? Ho accettato di darti la metà dell'oro ? Sì. Ma prima voglio vederlo, l'oro. Certo, certo, socio. È tuo diritto. È il migliore che c'è sul mercato. Vergine, come una sposina prima della luna di miele. Capo, sta arrivando qualcuno. Maledizione. Ora arrivano i rangers. Ti arrestano. Tutto finito. All'inferno. Addio Messico. I rangers. Skelton, metti i cavalli nella stalla. Cobra, butta Reed nel magazzino. Dick, prendi la pupa. Portate le cassette in cucina. Presto. Fatevi aiutare. Appostatevi nella stalla. Tu e Skelton, capito ? Guai a chi di voi fa un solo cenno. Una parola fuori posto. Capito ? Attenzione a tutti. Prima ammazzo le donne, poi tocca agli uomini. Svetta, sali. Grazie a tutti. Grazie a tutti.